Voi sarete coloro che con il vostro contributo renderanno questo luogo il più grande tempio dell'intrattenimento di Parigi. Grazie a tutti. Dai, 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 scambio d'oltre, scambio d'oltre. Tu mi aiuterai. È uno specchio, è uno specchio. Stasera sentirò il calore di voi. E poi le mie pene, le mie pene consolarò. Gli ideali della Francia sono a prova di proiettile. Chi ha usato levare la mano contro il pallone osso di E? Chi l'ha toccata? Chi l'ha toccata? Non lo so, io l'ho portata su, io l'ho messa in mano e basta. L'unica cosa che faccio, mi rovinerò tutti. A noi a Lodole. Possiamo sempre volare alte. Il popale. Questo è un passo avanti per noi a Lodole. La musa è tornata. La musa è tornata nel teatro. Valedetto chiunque è seduto su queste sedi. La musa è tornata nel teatro. La musa è tornata nel teatro. La musa è tornata nel teatro. non l'ha venduto! Sono gli sposi! Noi tutti, ora e per sempre. Siamo il teatro.